Un'edizione sondriese della 74esima Assemblea Generali di Confartigianato, quella dello scorso sabato, che segna un ritorno inattivo di bilancio dopo anni di difficoltà ed un aumento di associati a fronte di un calo delle imprese iscritte in Camera di Commercio. C'è un'attenzione verso l'associazione. L'attenzione verso l'associazione credo che sia chiaramente ciò che l'associazione oggi può offrire. Non può risolvere tutti i problemi, ma può essere chiaramente una leva importante nel lavoro all'interno del territorio. Molteplici temi affrontati nell'ambito di un corposo ordine del giorno. Oltre a quello concernente la situazione attuale del bilancio di Confartigianato Imprese Sondrio, l'altro connesso alle opportunità occupazionali offerte nell'attuale dalle imprese del territorio. Tra queste, quelle del settore trasporti. Nella provincia di Sondrio a mancare sono gli autisti e non soltanto, ma la vicina Svizzera e i differenti trattamenti economici sono per gli operatori del settore fonte di tentazione non indifferente. Non dimentichiamo comunque che ci sono anche altre richieste fondamentali di figure professionali. Dobbiamo rimarcare, come l'abbiamo indicato questa mattina, che in certe situazioni noi creiamo le figure professionali e poi le figure professionali scappano in Svizzera. Per cui un altro elemento fondamentale sullo quale abbiamo in qualche maniera già chiesto alla struttura regionale, per cui a Regione Lombardia, di poterci dare una mano sotto questo contesto. Ampio spazio dedicato durante l'incontro in seno al meeting di Confartigianato al tema della sicurezza sul lavoro, con il progetto Sicuri in Azienda, promosso dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, Landmil, assieme a Confartigianato e a Fondazione Pro Valtellina Ongus. Un progetto basato sulla formazione alla sicurezza presso tutte le scuole della provincia e che attraverso stage presso aziende del territorio permette agli stessi studenti di affacciarsi al mondo del lavoro. Questi corsi vengono resi validi da un protocollo che è stato siglato nel 2017 con tutte le parti sociali e questi corsi sono utilizzabili anche al termine della scuola. Quindi un ottimo risultato grazie a tutti e un ottimo risultato anche dal punto di vista dei numeri. Presenti inoltre in sala rappresentanti della Polizia di Stato per far luce su tematiche connesse ai pericoli del web e alle minacce alla sicurezza online. E poi la piaga mai rimarginata degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro. Un tema coccente in evidente crescita e che segna rispetto ai primi mesi dello scorso anno un incremento dei fenomeni infortunistici del trend lombardo pari al 4,4% in più. Da qui l'obbligo di una sensibilizzazione rivolta ad attori di lavoro, impiegati e studenti su un argomento mai fuori attualità. Per il settimo anno il concorso dal titolo La Sicurezza diventa un premio in tema di salvaguardia sui luoghi di lavoro ha premiato tre istituti scolastici superiori della provincia. A primiaggiare tra questi il Besta Fossati di Sondrio con un progetto sulla sicurezza e gli incidenti presso gli ambienti scolastici. Incidenti classici che succedono a scuola, in classe, nei laboratori. Sono incidenti che veramente succedono tutti gli anni nonostante facciamo di tutto per prevenirli. facciamo tanta formazione e in ogni caso anche quest'anno abbiamo avuto degli incidenti importanti.